non ti muovo Giacinto hai intervistato Pasquale Palma sei felice? felicissimo cosa si prova a intervistare un un cabarettista di Made in Sud? emozione a mille adrenalina pura ah Giaci fa un serio però che è sta adrenalina pura? che è sta in coppigliostro? la roba è sto facendo una cosa seria cioè seria insomma diversamente seria e quindi ora che aspetta e chi intervisterai? il duo Enzo e Sal Enzo e Sal sarebbero per chi non conosce? Enzo e Salvatore si ha già capito che affanni che si duio l'ingazzatore elettronico l'ingazzatore elettronico? ci vuoi dare una piccola dimostrazione? ma l'altro è oltre